Il progetto di biometraggio ambientale degli insetti impollinatori continua senza sosta nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per capire la qualità del territorio e studiare il comportamento delle api come indicatore della salute ambientale. Soddisfatti il presidente del parco, Tommaso Pellegrino, che insieme al direttore Gregorio Romano e alla task force messe in campo proseguono speditamente nelle azioni volute dall'Unione Europea. Gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema. Si stima che l'87,5%, circa 308.000 specie delle piante selvatiche in fiore nel mondo dipendono almeno in parte dall'impollinazione animale per la riproduzione sessuale e questo varia dal 94% nelle comunità vegetali tropicali al 78% in quelle delle zone temperate. In Europa la produzione di circa l'80% delle 264 specie coltivate dipende dall'attività degli insetti impollinatori. La protezione degli insetti impollinatori in particolare a poidei e farfalle è quindi di fondamentale rilevanza poiché essi svolgono un importante ruolo nell'impollinazione di una vasta gamma di colture e piante selvatiche.